Musica Io invito a lasciarmi i piace, i commenti e a iscrivervi al canale se non credi fatto Ci vediamo in partite e passate al canale di annesso di descrizione bella Sta per partire uomo ci sei Ci sono Ok siamo in castle uomo Non ho mai visto sta mappa è nuova eh Questa è carina questa è carina Ok dai vado subito al centro uomo Uomo abbiamo vinto Uomo Uomo sono già al centro Uomo ho già vinto Uomo ho già rotto il letto Uomo ho già rotto il letto di blu No uomo l'ultimo è l'anguria Fidati E' il pot Oh sai che finalmente ho mangiato anguria ma quella buona Ah dopo anni, mesi, giorni, stagioni, inverni passati C'era anche su ma non era così tanto buono Eh beh La frutta italiana Guardali che pialini che fa sbida Che prima fa sbida la settimana? Quella è la nostra sinistra Che tenero Uomo ti lascio qua i blocchi e torna in base a ammazzarmi un attimo Però il ferro dove spona? E' quello il vero dai Ah la destra del Marco Mi sono salvato lascia fare Ah no ok sei morto ok no ok No sono vivo il cazzacchio Sei tenero uomo tranquillo E' un giallo che ci guarda male Ciao giallo che ci guarda male Ciao mi sto giallo Dimmi se passa eh Eeeh Si Eeeh Non so come tu devi dirmelo Allora qua blocchi Poi mi faccio una guardatura al volo Cosa uomo cosa è successo? Flap flap No stavo percadendo Ok stavi percadendo ok Yes Ok tirlo Va bene così Stavi percadendo Ok gialli li vedo laggiù Ok arrivo eh Sto facendo un'armatura E arrivo I gialli sono brutte persone Brutte ma brutte brutte come tizio I rossi anche O un po' più belle No peggio Ah peggio di tizio è brutta però eh Olla Ho rubato due cosi di coso e sto scappando Due cosi di coso va bene uomo Due cosi di oro e sto scappando Ci sta Allora qua mi faccio il piccone quello bello No vabbè mi ha ucciso ma non è possibile Ma dai non sta arrivando tranquillo E' incestrato al centro però Ti butto lì dal ferro intanto vado lì al centro Che è Caspio Si vai 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 Caspio il mare o Caspio il Caspio No no Caspi quello che gioca nel Sacramento Kings Ok ci sta Vabbè ma non è tutti torche uomo sinceramente Ci sta però Dov'è il letto? Ah è vero è là sopra C'è un giallo che è caduto da qualche parte ma non so dove C'è un blu siamo noi Ah ah Aspetta che c'è il verde che sta andando dal giallo Si vai 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 ci siamo mutati da vicenda Si 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 Dov'è il letto uomo è dentro la casa? Eh no devi salire sopra la tenda che c'è dove c'è il villager E andare tipo là sopra Vicino alla casa in alto Ok sto andando Sto andando Sto andando Sto andando Sto andando Sono stati verdi? Si sono stati verdi per rimanere dei gialli Va bene va bene Vai 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 Marco? Sto andando sto andando uomo sto andando Ok no che ti sei silenziata lì Eh si perché sono entrato in mutismo selettivo quindi Oh oh c'è un blu che sta venendo al centro Wow Boom bitch Boom slut Mi faccio una mena d'oro e vado a killare quelli la Arrivo Slut è pesantissimo Eh beh Slut è pesante Allora c'è un giallo che sta andando dei rossi A caso Poveri rossi Poi Ma si è i rossi sono l'unico colletto Cioè fagli qualcosa Ah ma i green sono svampati Cioè Hanno quittato? Ehm No 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 Gli hanno uccisi Eh ok ma Ok Sando dei rossi uomo Sando dei rossi Uomo 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 Indovina Arrivo Aspetta Devo farmi la cespita E arrivo Mi mancano anche i blocchi quindi Ce la fai tenerlo? Oh mio dio sto laggando Oh mio dio sto laggando Please No no Uomo 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 cosa? Di punti Uomo Gigi Hashtag Uomo 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 Che è forte Jimmy Bardi Jimmy Bardi Jimmy Bardi Comunque Comunque Che è uscita ieri Che non aveva musica Era morto Praticamente C'era un casino madonna No almeno non parlavo Almeno non è che faccia il casino Però comunque vorrei prendere uno nuovo Ma si Però prima vado a prendere il computer nuovo E vai Sono povero E da lì in poi 100kpn02 tirlos Preparati Ma mica il computer Il computer serve tanto per portare alcune serie No beh Ti toglie via un sacco di tempo eh Ma cosa? Che Per quale motivo? Mi porta via un sacco di possibilità Più che di tempo Uomo Guardi gialli un attimo Ah no sono già saltati i gialli Che sbatti Ci sono i blu sopra di te C'è un blu sopra di te Dov'è? Sta venendo qua da me Sta venendo qua in base Sta arrivando da noi Sta arrivando da noi uomo Tranquillo sono qua Eeeh Cosa faccio io? Vado da loro intanto io dai L'ho fatto fuori tranquillo Bravo uomo Questo qua è arrivato camminando senza E l'ho visto che è arrivato abbastanza aggressivo Sì ma Mi avevo Beh Ho capito cosa stai dicendo uomo Eeeh Infatti Si è lanciato giù ancora Uomo stai laggando eh Davvero? Eh hai tirato una laggatina molto veloce veloce Eeeh Questa è casa mia Salve benvenuti Casa Tirlos Questa è connessione Tirlos Fibra Tirlos Sta arrivando un altro blu uomo No Si ma io Non a casa C'è non ho la fibra qua Eh lo so A casa mia Eeeh Vai 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 No son morto Son morto frate A pratalo E fu così che I died Comunque Dicchi dove vuoi arrivare Perché stai Perché lo prenda Non faccio domande neanch'io Uomo ho visto anche una cosa abbastanza strana che non vuoi fare domande Cioè Cos'è? Chi è saltato? Ah i rossi Non vedevo niente nello schifo della chat Vabbè comunque ci sta la Non parliamo uomo Non facciamo domande Marco c'è un po' di ferro nella testa Sì mi sono fatto qua una cespedes veloce Mi faccio del cibo e vado Va bene Sento troppi passi Però vabbè fa niente Va bene così Va ben così Va più che ben così Va ben Va ben Va ben demo Taitoso Allora qua Altro blu E mi sembra che abbia la spada in Alla spada in ferro Arrivo eh Ferro Marco Arrivo arrivo Marco laggo Marco la spada in ferro Marco Marco Dove sei? Ma sono in base tranquillo Ma mi stai sentito Speravo che non abbia un arco il bomber qua Ha ha E fu così E fu così Era un arco con un punch Un chat apparvi scritto No 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 Ti ha brutto il shotato giù? Sii mamma Eh succede Marco Sta arrivando uomo è qua uomo è qua C'è la cosa in ferro C'è la cosa in ferro Mi ha shotato Eh madonna Sta lagando sta lagando sta lagando Mamma Tirlos Che gioco di squadra Andiamo 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 Marco E uomo devo farmi uno stick Va beh 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 Sta andando Stai andando Allora vai Oh oh Marco 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 Aveva il blizz Aveva il blizz Aveva la blizzrode Marco aveva la blizzrode No c'è anche No uomo c'è c'è la cosa C'è anche la cobweb Che ho visto Eh si riesce a shotarlo con la spada uomo Eh questo qua mi uccide però con la spada Con la sua Prova a spingerlo giù Il fatto è che non vai via con quella Bisogna togliersi Bisognerebbe togliere la sua cobweb Ok lo tolto lo tolto lo tolto lo tolto lo tolto Sparalo Eh come faccio? Fai tu No ancora toglila toglila uomo No mi ho ucciso Mi ha ucciso anche me No uomo Eh qua andiamo Eh madonna quanto tolto Ma quanto tolto frate Eh no ma questo è normale Uh In strafe No ancora con la cobweb Si salva sempre con la No uomo ci ha bardato dentro Cazzo però stai blazer di merda Neanche la soddisfazione La soddisfazione di dire Sì l'ho buttato giù Fai Marco andiamo No Quindi ragazzi In questo video della badder Sottimela con Spero che vi sia piaciuto Lasciatevi lasciate un commento Purtroppo abbiamo perso Entrambe le partite Ma ci stavano di tanto perdere Perché ne perdiamo sempre alla fine Però comunque Ci vediamo in pressione Da Marche è tutto Passate al canale Tira in descrizione Iscrivetevi al canale Se non siete ancora di te Facciamo un pressione Da Marche è tutto Bella Bye Uomo Bravo Uomo Così mi carichi un botto